In occasione di Vicenza Jazz state per assistere a un live set del Little Jew Quartet, il quartetto in perpetuo divenire formato dai membri dei CAS in collaborazione con colleghi provenienti dalle più disparate aree della musica popolare. In ottemperanza alla formazione a quartetto i musicisti si alterneranno al proprio strumento ogni 4 o 5 minuti, dando così vita a tutte le combinazioni possibili per quanto concerne la line up di 8 elementi. I musicisti esterni ai CAS vengono ingaggiati di volta in volta al fine di garantire l'unicità di ogni evento sonoro. Grazie per la pazienza e per l'attenzione, Little Jew Quartet! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti